L'Italia è il più bel paese del mondo e il Lago di Garda è magnifico. Un territorio ricco di tradizioni, cultura, prodotti enogastronomici e persone che da anni si dedicano al loro lavoro con passione per rendere unico il nostro territorio. Gente vera, un team di professionisti e l'idea di creare una sinergia autentica. Così nasce Garda Amore, per selezionare solo le eccellenze del territorio gardesano ed offrire un'esperienza ricca di emozioni. Garda Amore coinvolge solo i produttori che meglio incarnano le tradizioni e il territorio del lago. Coloro che superano il percorso di formazione diventano gli ambasciatori di Garda Amore affinché i loro prodotti possano essere al meglio raccontati con visite guidate e laboratori attraverso la professionalità e la tipica cordialità della nostra terra. Con Garda Amore potrai conoscere e scoprire giorno dopo giorno, durante la tua vacanza, un territorio unico al mondo. Ricordare e conoscere al meglio le persone che l'hanno resa speciale, scegliendo solo le eccellenze del territorio gardesano e rivivere le stesse emozioni con la tua famiglia e gli amici comodamente a casa tua. Garda Amore è un e-commerce dove potrete trovare tutti i migliori prodotti del lago di Garda con video, fotografie e curiosità sul produttore. Un sistema integrato di logistica che mette in rete le realtà locali. Un tour operator che vi farà vivere un'esperienza unica con visite ed escursioni nelle migliori location gardesane. Potrai così tornare a casa e rivivere le emozioni che hanno reso la tua vacanza gardesana indimenticabile. Garda Amore. L'Italia bella e buona. Segui il cuore. Garda Amore.it